Si è svolta oggi, nella caserma di Viale Rovereto a Riva del Garda, la giornata annuale del Vigile del Fuoco. Sono stati esposti gli automezzi in dotazione e il pubblico ha potuto assistere a dimostrazioni pratiche di interventi, come lo spegnimento di una bombola di GPL in fiamme e la reazione dell'esplosione di un airbag. Inoltre i bambini hanno potuto svolgere un appassionante percorso gioco a loro riservato. Inoltre i bambini hanno potuto svolgere un appassionante percorso gioco a loro riservato. Inoltre i bambini hanno potuto svolgere un appassionante percorso gioco a loro riservato. Inoltre i bambini hanno potuto svolgere un appassionante percorso gioco a loro riservato. La bambina è sempre proteggente.